Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ampito dei controlli nei confronti dei soggetti per eccettori dei bonus spesa Covid-19, ha scoperto che oltre 700 soggetti hanno ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ovvero di indigenza, tale da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di genere alimentare di prima necessità. È emerso infatti che uno più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo stipendio o una pensione, anche per cospicui importi, percepito il reddito di cittadinanza, indenità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate oppure alterato il proprio stato di famiglia, indicando soggetti fittizi o non residenti per incrementare la somma da percepire. Davvero tante le situazioni di rilievo, si va dai coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare, a soggetti che già percepivano lo segno di mantenimento per separazione, a titolari di partita IVA e persino a congiunti di esponenti della criminalità organizzata. Nella maggior parte dei casi è emesso che i nuclei familiari monitorati hanno indicato un ISEE con un valore inferiore a quello previsto. È emblematico a riguardo il caso di una signora napoletana scoperto dalle fiamme gialle del primo nucleo operativo metropolitano, che ha presentato un'attestazione ISEE pari a 4.895 euro ma che in realtà, come appurato, era di oltre 67.000 euro. La stessa inoltre deteneva i spami sui propri conti correnti per 325.000 euro e un patrimonio immobiliare del valore di circa 36.000 euro. Nel complesso sono state irrogate sanzioni amministrative per indebita percezione di erogazione pubblica per oltre 250.000 euro e sono stati segnalati trasgressioni agli enti comunali al fine di avviare il recupero delle somme indebitamente percepite. Le attività di controllo testimoniano l'impegno della Guardia di Finanza nell'azione di contrasto ad ogni forma di illecito al danno della spesa pubblica nazionale, al fine di prevenire e reprimere, soprattutto in un periodo di crisi economica e sociale causata dall'emergenza sanitaria, la frattispecie di indebita percezione delle risorse pubbliche destinate alle famiglie realmente bisognose e maggiormente colpite dagli effetti economici derivanti dall'emergenza in atto.